Posso? No, ehm, Batea, no, insomma, vieni qui, ti prego, alzati, insomma, siediti. Grazie. Oh no, mio padre vuole che partecipi a un evento di beneficenza. Non posso restare. Volevo dirti che Rose aveva ragione prima. Tu aiuti sempre le persone. Quando hai aiutato Giulecca nella foto di classe. O quando hai visto in squadra Nataniel e Mark per quel fumetto. Oppure quando siamo andati al cinema a vedere mia madre sullo schermo. Ecco perché tutti hanno dato una mano con il ticnic. Oggi è stato il nostro turno di aiutarti. Sei la nostra Ladybug di tutti i giorni. Passa un bel pomeriggio, Super Marinette. Non c'è di che, Marinette. Passa un bel pomeriggio, Super Marinette.